Quanto ha fatto la differenza, la determinazione per arrivare ai quarti e battere il Getafe? No, era un partito difficile, con una squadra che gioca con aggressività, però oggi abbiamo fatto bene, la difesa ha fatto un buon lavoro e davanti sono contento di fare gol per la squadra e per Cristian che ha fatto un gol importante per noi e dobbiamo continuare così. 30 gol stagionali, record per te e anche un gol sbagliato a dire la verità. Cosa ti porti via di più, il gol segnato o quello sbagliato? Sono cose che arrivano nel calcio, però adesso sto pensando alla prossima partita per vincere e continuare a lavorare per la squadra e sono contento della vittoria di oggi. Ultima, quanto è importante anche Conte in questo momento e soprattutto avere continuità nell'avere Conte anche l'anno prossimo? È importante perché, come diceva la partita passata, stiamo facendo molto bene e la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così con la stessa mentalità e vogliere continuare a migliorare ogni giorno. Sapete qual è stato l'altro giocatore dell'Inter a segnare 30 gol?